Ma dormiamo o no? Ma dormiamo o no? Ma Sampdoria, ma che cazzo di squadra di merda è? Ma che cazzo è? Ma che difesa? Ma che difesa? Iguain ha segnato ragazzi, 35esimo, 2-2, guardiamo qua. Ma guardate la difesa! La difesa! Un ero! La difesa! Guarda, il pazzo del tubo è tutto, bravo tutti ragazzi.